Al via due progetti per avvicinare nuovi turisti e trattenere chi è già arrivato. Al Lago del Corro e a Cimacampo si amplia l'offerta di servizi. In particolare in Riva al Lago si cercherà di risolvere un problema che si ripresenta sempre più spesso, l'abbassamento del livello dell'acqua. Un'alternativa ai turisti che magari vengono a passare le ferie nel nostro comune, specialmente giù a Rocca, e magari per colpa del livello del Lago non trovano altre opportunità per rimanere. Invece con il parco acquatico dare la possibilità di trovare qualcosa di alternativo al Lago. Non è però l'unico progetto in ambito turistico che avete in mente, ce n'è anche uno per Cimacampo. Sì, per Cimacampo invece abbiamo pensato per gli amanti della montagna, di sotto al Forte Leone dove c'era l'ex casermetta Coldegnela, di ristrutturare l'ex casermetta e usarla come ostello. Per il parco acquatico verranno investiti 800.000 euro in arrivo dal Fondo Comuni Confinanti, nell'ambito di un piano che prevede anche alcune piazzole di scambio per la frazione di Carazzagno. Stessa cifra per Cimacampo, con un probabile affidamento di gestione già a settembre.